Buon salve a tutti youtubers, io sono Xeno e qui come c'è sempre Il grandissimo fratello di Xeno Ma perchè ti vanti? Basta vantare Ok comunque Scrivete sui commenti se mi vanta Ehm, pollice in su se questo ragazzo si vanta Allora, nella scorsa parte abbiamo trovato Bertic e Verizzonolo di buono E anche, come si chiama, Zoro al Coloreverse Aspè, chi ha aperto il tuo Xeno? Tu? No, io No, no Ma ti dici, ti dici Che peccato l'ho aperta Hai preso l'ho aperta? No, dopo ne apri uno Ah, è vero, è vero, vai Uff È brutto aspettare l'altro che ha la bustina Dove sta? Non farmi, farmi godere questo momento perchè Ecco Mincino Ti è uscito Mincino? Yeah No, hai vinto Lo so Quindi, Mincino Cotoni Pidab Che bellino Gotita Sandile Galvantula Audino Sì Great Ball Cotoni Reverse Sì E Sculpid Raro Bello Sculpid Ok ragazzi Vi ricordo Un'ennesima volta Ve lo ripeterò Quando aprirò i box La cosa importante Quando aprite i box E trovare due rari in una bustina E trovare il meno Meno doppioni possibile Ci mancano tutti i Pokémon Catcher? Se si dice Credo se ne trovino Cinque Cinque No, no Pokémon Catcher Sono così rari Sono rari Ed è una carta non comune Ragazzi Pokémon Catcher E' mai forte Sono cadendo le bustine E' non comune Tanto le bustine cadono Abbiamo Seawaddle Che bellino Mincino Epico Pan Sage Arrampicato gli albi Purlo in orrendo Rufflet Fighissimo Con una folata Alimento che gli arriva Boldore Swaddle Godo Pokémon Catcher Wimmy Scott Rara Reverse Rara? E Simsy e Rara Benissimo Bella bustina Pokémon Catcher A Volunt Perché Chub Chub sta là? Perché Chub Chub è epico Mario Chub Chub è epico E riprende la bustina Che piace a Mario No ti prego Braviorino Per te sono Xeno Non sono Mario Per te Ok Xeno Per gli altri sono Mario Per te sono Xeno Mi racconta No Ok Chiamatelo Mario Oh si si Ho visto il primo Pokémon L'ho visto vai Chub Chub Si è Chub Chub Si Chub Chub Io vorrei Scambio Tundurus Per un Chub Chub Olo Si Non esiste vai Vabbè dai Chub Chub Fermo Fermo Togliti Ok mentivo Mettiamo la fianco L'altro Chub Chub Sono diversi Ci sono i Chub Chub Ok vai Basculin Mamma mia Pansier Raff Rafflet Ducklet Bianca Sempre a me esce Triner Poi Gautorita Wimscott Crocorock Reverse Tornadus Peccato Peccato perché lo abbiamo già Olo Però vabbè dovrebbe uscirci anche il Tundurus Vabbè si Per forza ci esce un altro Tornadus L'altro ci è uscito su Bello mi piace E infatti Va immediatamente ad essere Che l'altro non ha i gusti Ok quindi sicuro lo scambiamo Scambiamo sicuro un Tornadus Bello Che poi è raro Buono È ovvio che è raro Se è Olo è raro Bianchi Gobali Qua intanto si sta facendo la pila Delle comuni Da rumacca È la pila dei Pokémon online Che c'è? Si è il Gobali Dopo a me Si No È da uccidersi La code card Dai su Speriamo che mi escono Tutti e tre spadaccini Faremo il video dei Pokémon online No Si Waddle Sendile Ho visto qualcosa Non è vero Gotita Vedi? Gotita P-Dub Fighissimo Ferro Seed Crushing Hammer Cioè credo Martello Della distruzione Cosa del genere Che è molto sfizioso Perché Sul mattello Ci sono Le cose Che almeno Le Ok ci sono Sigilift Recycle Patrat Reverse Sassback Raro Figo Allora Tra Cobalion Tra Cobalion e Tundurus Eh Sono poche Le bustine Sono poche Sembrano poche Ma invece sono 40 Vai Dai Dai velo Su 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 Allora Drillbur Drillbur Pansegg Mincino Mario Cotoni P-Dub Clang Swadlun Recycle Per Per Dillur Reverse Su Anna Raro Che figo Questo non c'era Wow Wow Vabbè Buono Allora Aprirò Tornados Non hai aperto La tua preferita Darmanitan Eh no Non le voglio prendere Da dietro Voglio prenderle In successione Ah Uscita presto Non ho visto No È uno scherzo È uno scherzo Spero Che è successo No niente Se ne vengono a pezzi Le bustine Si l'ha fatto bene Si l'ha fatto bene Sì il trick Drillbur Dirling P-Dub Un bellissimo Reflat Pettylil Max Potion Go Aia Gotorita Ferrothorn Drillbur Reverse E X X X Olo È uguale a quello che esce dal White Collection Black Collection Quella giapponese È uguale È bellissimo A me piace così E io lo voglio così Mi dispiace Cosa mi dispiace Ma perché prendi sempre lui Perché Eh Andate In quale bustina ti è uscito L'Ultra Eh zi Non si apre Comunque Ve lo dico Le bustine più fortunate Di questa espansione Sono queste qui Queste sono le bustine più fortunate Delle espansioni Se vi interessa Ma lo dici tu Oppure No no Questa sarà l'ultima bustina Della parte Va Quindi Petty Aspetta Petty Dirling Come prima Veniped Molga Duglet Che sposa l'acqua Crocarock Ceren Ceren Siglipi Siglipi Ma sei dislessico o cosa? Siglipi Mi sono gli occhiali Klink Reverse Malibaz Mamma mia Non ti voglio far parlare No non ti voglio far parlare Bellissima Siglip Wow Siglip Mi sembra più cattivo Vabbè Comunque Ah questa era la reverse Manco farla vedere Bella la reverse C'è uscita Non è vero Ok ragazzi Allora per questa parte è tutto E voglio far vedere Quante Quante code card abbiamo Ok Per ora Tre pokemon catch C'era un ultra Molte Oloi E soprattutto Molte comuni Come al solito Arrivederci Pollice in su Votate Commentate Iscrivetevi Alla prossima parte Alla prossima parte Grazie.